Piazzetta Imperiali nasce da un ristoratore di grande esperienza nel settore. Entrando nel locale ci si sente subito a proprio agio. Degustazione di ottimi caffè accompagnati a deliziosi cornetti, aperitivi e franzi. La sera tanti i piatti, hamburger americani, baguette francesi, taglieri di ogni tipo, insalati e bruschettoni, ma anche pizza particolari. Il dopo cena è al ritmo della migliore musica. Piazzetta Imperiali, location ideale per festeggiare eventi unici nel loro genere. Alla Tiano, India Roma 34, angolo Piazzetta Imperiali, info 0831 72 77 57, Piazzetta Imperiali, Sorsi di Allegria. In gruppo abbiamo l'assessore Deborah Artuso, assessore alla cultura del comune di Statte. Allora commentiamo questo evento, un evento ormai caratteristico proprio della storia e della tradizione statese. Mi ha fatto specie, lo dicevo prima, a questa grande partecipazione popolare. La città ha un cuore pulsa, la città si stringe rispetto intorno alle proprie origini. Anch'io sono ancora ammirata dalla bellezza dello spettacolo che è stato messo oggi in scena. Il miracolo che si è compiuto è che è uno spettacolo che ha visto tutta la comunità partecipare. Li ascolteremo. Degli attori, questi sono ragazzi che appartengono tanto alle parrocchie quanto alle associazioni laiche del nostro territorio. E io penso che per chi amministra una comunità come io faccio, temporaneamente ovviamente, non vi sia soddisfazione più grande che vedere che comunque, a prescindere da te e dal tuo lavoro, la comunità è viva, ha energia, positività, voglia di crescere. E poi penso che il mio compito non sia altro che cucire questi pezzi di comunità, fare in modo che si incontrino. Oggi abbiamo messo insieme le parrocchie, le tre parrocchie di estate, le associazioni laiche, le associazioni religiose, la scuola, l'Istituto Maldi, il Centro Sociale Anziani. La comunità intera si è mobilitata, quindi non ci può essere soddisfazione più grande che questa. Abbiamo i centurioni, il loro aspetto trucce, duro, ma invece un grande cuore. Una battuta per uno. Beh, ringrazio la gente che ha partecipato e ci ha premiato della loro presenza perché dietro... Nonostante la pioggia. Nonostante la pioggia. Dietro la manifestazione c'è stato tanto lavoro, tanto sacrificio, tanto tempo speso per la riuscita di questo evento. Grazie alla gente, insomma. Sì, una grande esperienza e sarà sicuramente da ripetere. Viva state, viva la nostra comunità. Bene, penso che questo sia il modo migliore per completare questa parte di Polifemo relativa appunto alla Passio Cristi di State. Noi stiamo cercando di far vivere le tradizioni legate alla Pasqua nei vari comuni della provincia ionica. È un modo per valorizzare il territorio, certamente il sentimento religioso, ma quando si parla anche di turismo religioso, io penso che la provincia ionica e i vari comuni abbiano tutte le carte in regola per dire la loro. Cresciamo noi, cresce il territorio, cresce il nostro mezzogiorno.